Musica Domenica 5 dicembre, San Giulio Martire. È il 339esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 26 al termine. Il sole sorge alle 7.34 e tramonta alle 16.28. La luna si leva alle 9.03 e tramonta alle 17.22. Il Vescovo di Castello riconosce di non aver giurisdizione sulla chiesa di San Marco in quanto cappella ducale. Si ricorda che il Vescovo di Castello, poi patriarca di Venezia, risiedeva a San Pietro di Castello e che la chiesa di San Marco diventò la cattedrale di Venezia solo nel 1807, dieci giorni dopo la caduta della Repubblica. Le previsioni per domani. Cielo nelle prime ore parzialmente nuvoloso, poi da poco nuvoloso a sereno. Probabili alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni sulle zone più a sud-est e per il resto in diminuzione, anche sensibile sulle zone montane orientali. Per le temperature massime prevarranno in pianura un aumento e in montagna una diminuzione.